e si sono attaccati al tram un conto è non passare i bigliettini ma un conto è fare la spia con i professori non era fare la spia perché voleva essere bacchettona voleva prendere i voti migliori i voti migliori non li prendi a caso li prendi per se studi e ti impegni ma chi era un conto di qua è secchiona ma simpatica passavo i compiti ho passato anche la maturità me ne assumo le responsabilità